Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Teleitalia. Le bugie hanno le gambe corte. Vi ricordate Conte che diceva sul recovery siamo perfettamente in tempo, ma quale in tempo? Doveva essere consegnato il 15 di ottobre, 15 novembre, 15 dicembre, due mesi e mezzo. Quindi 60-75 giorni di ritardo. Complimentoni al Giuseppone. Ecco, adesso, visto che non c'era fretta, eravamo perfettamente in tempo. Anche gli altri paesi europei sono in ritardo, diceva Conte la Germania. L'ha consegnato ieri. Sì, ma quell'ieri era già dieci giorni fa. L'ha consegnato, noi siamo ancora qua. Comunque, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, chiede al Premier di accelerare le procedure per i progetti. Rischiamo di perdere doppiamente i fondi, perché prima li dobbiamo anticipare noi e poi ce li rimborsano. Quindi, attenzione che così perdiamo i soldi, è l'avvertimento di Gualtieri. Una serie di provvedimenti straordinari per rispondere alle sfide del Next Generation EU, e rendere subito realizzabili gli investimenti, chiede questo Roberto Gualtieri, che si è appellato direttamente a Conte per sollecitarlo ad azionarsi affinché il nostro paese si faccia trovare pronto a raccogliere tutte le opportunità in campo. Le opportunità sono i soldi. Raccogliamo questi soldi come in un videogioco. Raccogliamoli, perché a un certo punto possono anche sparire. Il Gualtieri, il ministro dell'Economia, del MEF, come lo dicono, Ministero Economia e Finanza, incontra la delegazione dei Cinque Stelle e del PD per discutere sui contenuti del Recovery Fund, che Conte aveva già deciso i contenuti. La linea da lui indicata è quella del decreto semplificazioni, sveltendo le procedure e dando assoluta certezza ai fondi stanziati. Il contenuto più profondo della governance è proprio questo, la task force. È una questione davvero secondaria, dichiara Roberto Gualtieri. In effetti, prima diamo questo caspita di piano in Europa e così l'abbiamo fatto. Poi quando cominciano ad arrivare i soldi c'è tutto il tempo di assumere manager e tecnici. Ecco, quella è anche l'ultima cosa, ma Renzi ne sta facendo la prima cosa per poter far cadere conto. In realtà, della governance di come spendere questi soldi, a Renzi non gliene frega nulla. Sarà pertanto fondamentale identificare delle corsie preferenziali sulle procedure coinvolte nel ruso di questo Recovery. Bisogna chiarire quali possano essere le innovazioni procedurali. Di questo abbiamo bisogno, dice in un'intervista a Repubblica il Ministro. Ci vogliono procedure ordinarie, semplificate e norme, appunto, semplificate. Senza dimenticare, poi aggiunge l'importanza rivestita da quella che viene definita la metariforma, ovvero la riforma della pubblica amministrazione. Eh, questo è importante perché se non andiamo a riformare la pubblica amministrazione, che è inadeguata a un Paese così grande, inadeguata perché poca connessione tra le varie divisioni, connessione tra i sistemi informatici, in alcuni casi non ci sono neanche i sistemi informatici, tutto ancora scritto e archiviato a mano. Insomma, la riforma della pubblica amministrazione cercherebbe anche di sburocratizzare molte cose, di togliere la polvere imperiale ormai che c'è sulla pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione più snella, più veloce, più semplice come in tanti altri Paesi, che permetta anche di poter spendere questi soldi che, guardate, sul 2020 siamo riusciti a spendere solo il 60% dei fondi europei. Il 40% forse sarà e andrà persa. Quindi l'avvertimento di Gualtieri è stato chiarissimo. Se non facciamo le opere e gli investimenti nei tempi e secondo i criteri indicati, non è che riceviamo i soldi in ritardo, li perdiamo proprio. Non funziona come per i fondi ordinari. Se non realizziamo i progetti, perdiamo i soldi. E paradossalmente li perdiamo doppiamente, perché il meccanismo prevede che noi li anticipiamo e poi ce li rimborsano. Il tutto è dettato da un calendario di verifiche che procede sulla base di traguardi intermedi, ma si faranno i conti con il risultato fallimentare, anche se gli stanziamenti vengono spesi. Male. Si confronterà Gualtieri anche con Renzi e con Italia Viva, per dar vita e per dar seguito a quella verifica di governo e quella verifica che c'è in corso, che sia è di governo e anche sul recovery fund. Bene. Poi c'è quella cosa del mess che incombe, questo mess ideologico che è veramente una classe politica ridicola. Ridicola. Gualtieri aggiunge Dobbiamo sempre ricordarcelo, non possiamo pensare di modificare i saldi di bilancio, ignorando a quanto ammonta il nostro fardello. L'impegno del governo è ovviamente quello di tenere bassa la curva del debito, anche mediante la crescita. Quindi anche Gualtieri alla fine è d'accordo con Conte che il mess non serve, è solo dannoso. Solo che Gualtieri, essendo del PD, tace. Tace perché andrebbe contro le linee guida del suo partito, quindi preferisce non dire niente. Ma si era già capito da tempo qual era la sua posizione sul mess, posizione intelligente da economista. Ma intanto il nostro debito pubblico, il nostro debito, il rapporto con il PIL, è intorno al 155%. Ricordiamoci che pre-crisi pandemica era al 134%. è aumentato di un 20%. Spaventoso, vero? Ebbè, decisamente spaventoso. No, non è il 20%, è un qualcosa di meno, ma è aumentato notevolmente. Un bel 15% ci sta tutto. Quindi il problema non è prendere i soldi e poi come pagare questo debito, come ripagare questo debito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Se volete, tra circa 20-22 minuti ci sarà disponibile un altro video su questo canale. Siamo anche in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete, mentre nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e commentare. Grazie nuovamente a tutti e buona giornata, buon fine dell'anno e buon inizio dell'anno 2021. Arrivederci nuovamente a tutti. Grazie. Grazie.